Ciao, io sono Francesco di Vaporetto Italiano. Oggi ti presento 5 modi di dire molto utilizzati in italiano. Lo sai che cos'è un modo di dire? Un modo di dire o espressione idiomatica è una frase che non può essere tradotta letteralmente in un'altra lingua ed è una frase il cui significato è diverso dal significato delle singole parole che lo compongono. Usare i modi di dire è molto importante perché permette al tuo italiano di risultare più fluido e più naturale. E ti do anche un consiglio. Per ogni espressione idiomatica che ti presento in questo video, pensa a un momento nella tua vita in cui lo hai sperimentato e crea una frase usando quella espressione. Ma non ti preoccupare, ti guiderò io durante il video. Cominciamo con la prima espressione idiomatica. La prima espressione idiomatica è acqua in bocca. Acqua in bocca si usa quando c'è un segreto. Qualcosa che non deve essere detto. Quando diciamo acqua in bocca a qualcuno, gli stiamo dicendo di tenere la bocca chiusa. Non dire niente perché è un segreto. Vediamo un esempio. Ieri mi ha chiamato Giorgio e mi ha detto Francesco voglio organizzare una festa a sorpresa per Giulia. Lei non sa niente quindi acqua in bocca. La festa è una sorpresa per Giulia. Giulia non sa niente quindi silenzio. Acqua in bocca. Prova ora a creare una frase usando l'espressione acqua in bocca. Pensa a un momento nella tua vita in cui avevi un segreto, qualcosa che non doveva essere detto. Pensa a quel momento e crea una frase con l'espressione acqua in bocca. Se vuoi puoi anche scriverla nei commenti qui sotto. La seconda espressione idiomatica è gettare la spugna. Gettare la spugna significa provare e riprovare molte volte a fare qualcosa ma senza successo. Quindi quando provo più e più volte a fare qualcosa e non ci riesco e decido di smettere di provare, getto la spugna. Vediamo un esempio. Ho cercato i miei occhiali per tutta la casa per quattro giorni. Non li ho trovati e alla fine ho gettato la spugna. Ne comprerò degli altri. Ora prova a pensare ad un momento nella tua vita in cui hai provato e riprovato a fare qualcosa ma alla fine hai gettato la spugna e crea una frase usando l'espressione gettare la spugna. Vediamo la terza espressione idiomatica di oggi. L'espressione è alzare il gomito. Forse potete intuire il significato di questa espressione. Alzare il gomito significa bere troppo, bere troppi alcolici, birra, vino, cocktail e finire per essere un po' ubriachi. Vediamo un esempio. Francesco è un bravo ragazzo. Ha un problema però. Molto spesso alza il gomito. Quando comincia a bere non finisce più. Questo era solo un esempio. Era solo per il video. Non è assolutamente vero. Comunque pensa ad un momento nella tua vita in cui hai alzato il gomito. Oppure pensa ad un amico o ad un'amica che alza spesso il gomito. E crea una frase usando questo modo di dire. Espressione idiomatica numero quattro. Stare con le mani in mano. Stare con le mani in mano significa stare fermo, a guardare qualcuno che lavora o che fa qualcosa invece di aiutarlo. Ho anche pubblicato un post su questa espressione idiomatica. Vediamolo insieme. Questo è il post che avevo pubblicato con questa mia bellissima immagine che rappresenta l'espressione stare con le mani in mano. E ho scritto idioma del giorno. Stare con le mani in mano. È un'espressione molto usata in italiano. Significa stare fermi a guardare, non fare nulla in una situazione in cui dovresti fare qualcosa. Esempio. Aiutami a lavare la macchina invece di stare lì con le mani in mano. Ora tocca a te. Prova a creare una frase usando l'espressione stare con le mani in mano. Pensa per esempio a un tuo amico che spesso sta con le mani in mano. Un tuo amico che quando qualcuno lavora sta fermo, non aiuta mai. Puoi anche scriverla nei commenti qui sotto se vuoi. Espressione numero 5. È l'ultima di questo video. L'espressione è fuori come un balcone. Se qualcuno è fuori come un balcone significa che è un po' matto. È un po' strano. Vediamo un esempio. Molto spesso Francesco parla da solo e anche a voce alta. Secondo me è fuori come un balcone. Conosci una persona che è un po' strana? Un po' matta? Una persona che è fuori come un balcone? Se la conosci, pensa a quella persona e crea una frase usando l'espressione fuori come un balcone. Bene, spero che questo video ti sia piaciuto. Ricordati che se vuoi puoi scrivere le frasi che hai creato nei commenti qui sotto. Noi ci vediamo al prossimo video. A presto!